Ciao, in questo video ti parlo del timo alinalolo. Il timo alinalolo è una pianta che cresce nel bacino mediterraneo e predilige i luoghi secchi e rocciosi. Resiste fino a 2000 metri di altitudine. Ha proprietà antivirali, antifungine e antibatteriche. Viene utilizzato per tutte le affezioni a livello dell'apparato respiratorio. Viene utilizzato anche per tutte le problematiche di micosi alla pelle, ma anche per problemi ginecologici, quindi candide, prostatiti, vaginiti. È un vermifugo. Inoltre è un tonico, antifatica. Grazie alla sua proprietà antibatterica può essere utilizzato anche contro i problemi di acne. Come si utilizza questo olio essenziale di timo? Se lo utilizzi come tonico, assumi due gocce di olio essenziale di timo, diluito in un cucchiaio da caffè di olio d'oriva, per almeno 5 giorni, 2 volte al giorno. Se lo utilizzi contro l'acne, ti consiglio di fare dei suffumigi, almeno 2 volte a settimana, con 15 gocce diluite in acqua bollente di olio essenziale di timo. Se lo utilizzi per risanare l'ambiente, ti consiglio di vaporizzarlo almeno 2 volte al giorno per mezz'ora, nella casa, aggiungendo 5 gocce di olio essenziale di timo, con 5 gocce di olio essenziale di eucalipto e 10 gocce di olio essenziale di limone. Chi non può utilizzare l'olio essenziale di timo? Le donne in gravidanza e allattamento, i bambini sotto i 7 anni, le persone allergiche e gli asmatici che non sanno di essere allergici se non gli viene prescritto dal medico. L'olio essenziale di timo è abbastanza ben tollerato, ma se messo sulla pelle è meglio sempre diluirlo in un olio vegetale.